E ciao Smarties a tutti, soprattutto a quelli che si sono chiesti almeno una volta nella vita quanto possono essere intelligenti i personaggi creati da Akira Toriyama. Per chi non se ne intendesse parliamo di Dragon Ball, Dragon Ball Super e Dragon Ball Z, la serie più amata probabilmente. Allora in questo video ho provato a stimare il quoziente intellettivo, per non dire l'intelligenza, dei più famosi personaggi. Iniziamo dal basso con Majin Bu Grasso. Secondo me Majin Bu Grasso non dovrebbe andare oltre i 55 punti, parliamo di un ritardo mentale a tutti gli effetti. Poi considerando sempre la scala umana, inserirei Zeno Sama, questo personaggio così enigmatico, su un livello borderline, direi 75, un pochino sopra Forrest Gump. È molto piccolo e potrebbe nascondersi anche un mostro dentro di lui, ma lo colloquerei indicativamente su questo livello. E ora tieniti forte perché arriviamo al personaggio più importante della saga, il protagonista, Son Goku. Goku, secondo me, ha un quoziente intellettivo leggermente sotto la media. Sì, è un genio del combattimento, ma nella vita pratica, nel lavoro e nello studio, non si può dire che brilli per acume mentale. Lo collocherei tra gli 85 e 95 punti, a seconda della saga di riferimento. Nella saga di Majin Bu, secondo me, si comporta meglio, ad esempio, che in Dragon Ball Super. Sempre in Dragon Ball Z lo possiamo anche ammirare mentre risolve dei classici rompicapi che neanche Jack Nobile. E intanto il fratello di Condor gli sta sottraendo le sfere del drago da sotto il naso senza che lui se ne accorga. Insomma, dalla padella nella brace. E adesso arriviamo all'amicone di Goku. Krilin, secondo me, potrebbe stare su un livello di circa 105, ma anche 110 punti ad essere generoso. È sempre stato più intelligente di Goku durante gli allenamenti con il maestro Muten, il genio delle tartarughe di mare. Ma non siamo certo ai livelli di piccolo, no? Adesso ho inserito il cattivone per eccellenza, il villain più importante di tutto Dragon Ball. Frieza, o Freezer, a seconda delle traduzioni. Lo collocherei su un 115 di cui, quindi il livello più basso della mente brillante. Secondo i canoni umani potrei essere un po' sopra la media, ma certo vai che gli altri della sua famiglia, i demoni del freddo, lo considerano un perfetto inetto, tanto ad essersi fatto battere da un popolo di scimmioni, i Saiyan. Ok, dai, approvato, 115. Rullo di tamburi, tappeto rosso per un personaggio tra i più amati. Secondo me il migliore, il principe Vegeta, o Vegeta, che dir si voglia. Lo collocherei su un 120 abbondante, sicuramente lui si indignerà per questa decisione, e si autoattribuirà un bel over 9000, ma secondo me non potrebbe comunque arrivare a livello gifted, quindi dai 130 in su. Eh sì, ce devi staccare, caro Saiyan, perché la giftedness, secondo me, è riservata ad altri personaggi. È inutile che fai questa faccia stupita, sconvolta e arrabbiata, ma è così. Sono più intelligente di te, stacce. Già tuo figlio da bambino probabilmente ti aveva superato. Darei a Trunks un bel 130 barra 145, ovviamente da adulto, a seconda della saga di riferimento. Il Mirai Trunks del futuro, secondo me, non è paragonabile al Trunks di Dragon Ball GT, anche se non canonico, perché il vissuto, le esperienze e il contesto sociale hanno permesso a queste varie realtà di svilupparsi in maniera diversa, il cui ha comunque una componente allenabile che ho stimato in circa 15 punti, e quindi tra gifted ed highly gifted, seppur nella fascia più bassa di questo livello. Ok, salite sull'ascensore perché adesso si sale di brutto. Siamo arrivati a Gohan. Come ci dimostra la saga, i figli da piccoli superano sempre i genitori. Gohan, secondo me, da adulto potrebbe avere un quoziente intellettivo da highly gifted, fra i 140 e i 150 punti. Anche qui lui viene definito studioso e non sappiamo bene su che livello poterlo collocare. Sappiamo che la media dei premi Nobel scientifici è attorno ai 150 e quindi gli darei come upper bound, come limite superiore, questo valore. Sì, insomma, Gohan, hai fatto bella figura anche questa volta, ma non ti fomentare troppo. Non fare il great assignment della situazione perché ci sono personaggi che anche qui la sanno molto più lunga di te. Il prossimo personaggio però non riuscirete a indovinarlo facilmente. Provateci se volete, vi lascio ancora qualche secondo. Essenbenorimaki, o come è conosciuto da più, Dr. Slump. Il Dr. Slump, quando non è allupato o non vede capi di biancheria intima femminile, lo collocherei su un 155, quindi sopra la media dei premi Nobel scientifici. Alla fine ci sta, dai, lo sapete anche voi, è riuscito a creare un robot parlante in grado di risolvere le equazioni matematiche superforte ma che si diverta ancora a giocare con quegli strani oggetti organici che si trovano per terra. Ma almeno li tocca con un bastone, ecco, ogni tanto. Dai, Dr. Slump, diciamo che le potenzialità ce le hai ma puoi applicarti di più. Anche qui siamo arrivati davvero sull'Olimpo. Siamo a Kami, o il Supremo, sull'Olimpo non a caso perché siamo sui 155 di cui e anche la sua abitazione ha una vista che non è niente male. Lo collocherei sui 155 perché una volta fusosi con un altro personaggio che sta per arrivare molto amato anche lui e uno dei miei preferiti, a quel punto il nuovo essere diventerà certamente più intelligente. Con la fusione con Piccolo o Junior, come lo vogliamo chiamare, secondo me si entra nel range degli Exceptional Gifted, insomma, un collega. Questo 165 glielo attribuirei perché, oltre ad avere 700 anni, adesso Piccolo è tornato ad essere completo, ha acquisito tutta l'esperienza che aveva il Supremo e come genio del combattimento è indiscutibile, sicuramente il fighter più intelligente della saga. Ok, potrebbe anche giocarsela con Perfect Cell perché Cell ha degli upgrade davvero spaventosi. Già all'inizio della saga non era male perché comunque ha dimostrato di essere in grado di poter prendere una macchina del tempo che non conosceva e riuscire ad attivarla a tornare indietro nel tempo per poter poi attuare il suo piano. Sì, lo so, mi direte, anche Goku ci ha riuscito durante la saga di Zamasu e non posso che darvi ragione. Va bene, ma sicuramente avendo assorbito tutti quei terrestri qualcuno più intelligente della media l'avrà trovato. Un 170 come top possiamo darglielo. E non possiamo che attribuire un livello ancora più alto al suo creatore, il Dottor Gero o Dottor Gelo. Gli darei un bel 180, quindi un Profundly Gifted, perché comunque è riuscito, dopo tanti anni, tanti sforzi, a mettere in piedi una bella squadretta di cyborg. È chiaramente ispirato ad Einstein sia per la dedizione che per l'ossessione per un certo tipo di problema, se non altro per i baffi bianchi e i capelli arruffati. Sì, dai, un bel 180 a questo genio con il cervello in bella vista glielo possiamo attribuire. Ricordatevi 180 perché adesso utilizzeremo questo valore come metro di paragone per stimare il QI di Bulma. Bulma, secondo me, è un QI che oscilla tra i 170 e i 190 punti, quindi sicuramente la donna più intelligente nel mondo, superando Marilyn Vossavant, che ho stimato, ho collocato, intorno ai 180 punti in un noto video. Vi lascio la scheda in alto a destra. Bulma potrebbe essere intorno a un 170 perché, durante la saga canonica, non è neanche in grado di capire bene come siano fatti i cyborg del Dottor Gero. Però nella saga del futuro è in grado di creare una bella macchina del tempo che addirittura viene invidiata, viene temuta dagli stessi dei perché viene considerata un qualcosa che può generare i viaggi nel tempo che sono vietati nell'universo di Dragon Ball. Ma c'è sicuramente un personaggio che va ancora oltre. Qui siamo arrivati a livelli stratosferici, siamo oltre la nostra galassia e siamo sul pianeta di Zuno Sama. Zuno è un essere onnisciente che è in grado di capire, sapere tutto, conoscere tutto, ma al quale possono essere poste soltanto tre domande da ogni persona che ha la fortuna, dopo una interminabile fila, di essere ricevuta da lui. Ebbene, secondo me Zuno ha un QI che va oltre il livello massimo stimabile sulla Terra, ma comunque un livello terrestre, tra virgolette. Gli darei un bel 200 o più. Ma poi c'è il quoziente intellettivo di personaggi come Whis. Whis è un angelo, che quoziente intellettivo potrebbe avere? È in grado di gestire l'universo, gli dà della distruzione, anche lui riavvolge il tempo di qualche minuto se vuole, può viaggiare a velocità incredibile e ama il buon cibo. Secondo me è oltre la scala umana, non è umano e quindi non saprei quantificare davvero. Il suo QI perché abbiamo visto ancora troppo poco. E l'ultimo personaggio, e questo lo lascio a voi per esercizio, scrivetemi nei commenti quanto pensate possa avere di quoziente intellettivo. Secondo me Arale, questa strana sorella che va alle medie del Dottor Slump, ma sei troppo vecchio Dottor Slump per avere una sorella come Arale. Vabbè, comunque, la creazione del Dottor Slump potrebbe avere un quoziente intellettivo molto alto perché è in grado di risolvere delle equazioni complicate, ma nella vita pratica combina un sacco di macelli perché non è in grado di capire le dinamiche umane. Non saprei. Stimiamo il quoziente intellettivo, non l'intelligenza sociale, ma questo ditemelo voi nei commenti. Tutti i punteggi erano espressi in deviazione standard 15, quindi scala Wexler. Se volete altri video così lasciate tanti like e condividete questo video con i vostri amici, fatemi sapere nei commenti se volete che vada a stimare il quoziente intellettivo di qualche saga particolare, di qualche cartone, di qualche personaggio, di qualche serie tv. Fatemelo sapere nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo imperdibile video. Ciao Smarties a tutti dal vostro Marco Ripà. Ciao Smarties a tutti dal vostro Marco Ripà.